Buongiorno a tutti. L'amministrazione comunale sta valutando l'acquisto dell'ex convento delle suore canossiane con i fondi per la legge speciale, che potrebbero essere spesi anche per l'acquisizione del bene, cosa che non fu possibile invece quando all'asta venne messo il porsal. Ora la spesa è relativamente irrisoria. La base d'asta per il complesso parte da soli 710 mila euro, ma l'offerta minima è di 534 mila. La spesa iniziale non è preoccupante, conferma il vice sindaco Marco Veronese, ma le spese successive di riqualificazione del bene e destinazione d'uso invece sì. Il progetto per la gestione deve essere presente nel momento in cui si può valutare l'acquisto, anche in compartecipazione. Pertanto l'amministrazione sta pensando di coinvolgere l'Università di Padova, che sta completando a San Domenico il centro di biologia marina. Questo per la realizzazione ha speso 3 milioni di euro. il comune di Chioggia vi ha partecipato con 1 milione e 200 mila. Lo leggo su Chioggia Azzurra. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17, anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. La pizza da Leo ti aspetta. Ieri mattina comune di Chioggia e Anas hanno fatto il punto sul cantiere sul ponte sul Brenta. Hanno partecipato responsabile della struttura territoriale di Anas, il responsabile della gestione della rete in Veneto, il sindaco Faro e la consigliera regionale Erika Baldin. Anas ha stabilito di intensificare la presenza di movieri nelle ore di maggior traffico per gestire in modo migliore le emergenze, disponendo anche il controllo da remoto dei semafori che regolano la circolazione a senso unico alternato. Lungo la Romea sono state posizionate le tabelle con i suggerimenti con i percorsi alternativi. Sui tratti autostradali nei pannelli digitali sono stati inseriti messaggi indicanti la coda sulla Romea e il suggerimento di mantenere la direzione autostradale. Per quanto riguarda le pensiline alle fermate dei bus extraurbani se ne riparla dopo il 17 maggio, invece dopo l'estate inizierà l'intervento per la rotatoria a Valle di Chioggia. Lo leggo su Chioggia Azzurra. AgriFree è un'azienda di Porto Viro che coltiva grani biologici a chilometro zero in piano parco del delta del Po. Dalla macinazione a pietra del proprio grano ne ricava la semola e le farine bio che vengono successivamente utilizzate per produrre pasta bio e altri prodotti come gallette, grissini, biscotti e piadine. Il nostro motto è vivere bene, mangiare sano, prodotto italiano. AgriFree, i sapori del delta. Per info 338 344 746 oppure www.agrifree.it. Il servizio di pubblica assistenza svolto dalla sezione clodiense della Croce Verde cerca volontari non sanitari, quindi anche senza aver svolto il corso di primo soccorso, per supportare l'afflusso degli utenti al del centro vaccinale in Val d'Ario. Inoltre i volontari assistono la popolazione attraverso la consegna di farmaci, la pratica della spesa e altre piccole necessità. Tanti sono i ruoli disponibili necessari alla volontà di aiutare chi ha bisogno. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 04 26 22 21 5. La commissione consigliare urbanistica ha avaliato una relazione tecnica preliminare per una variazione del piano regolatore. A fronte di 400 ettari attualmente previsti dal piano regolatore appunto sarà messo lo sfruttamento solamente per 226. Ciò in adeguamento alla legge regionale 14 del 6 giugno 2017 che introduce nel quadro normativo il consumo del suolo. Bisognerà tenere conto in futuro dell'incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi che ne possano compromettere le funzioni ecosistemiche e le potenzialità produttive. Il consumo del suolo è evidente comunque soprattutto a sottomarina. Chioggia rientra tra i comuni veneti che hanno un consumo del suolo tre volte superiore alla media nell'ambito di appartenenza. Il problema che solleva il consigliere Giannuca Naccari FDI è che potrebbe nascere una gara per accapararsi le quote disponibili di solito affidate in ordine di tempo di presentazione. Gli uffici in ristrettezze di organico dovranno superare quindi a una gran mole di lavoro. Lo leggo sul gazzettino di Venezia in edicola oggi. Sabato 8 maggio partirà la regata nazionale valida come qualificazione per le imbarcazioni d'altura ORC e per il campionato nazionale adriatico mini altura. L'evento comincerà alle 9 e mezza. Partirà dal giardino della club house della Darsena Le Saline con lo skipper meeting a cui potrà accedere solamente un membro per equipaggio di ogni imbarcazione. La prima prova partirà alle 11. Le altre regate si svolgeranno domenica e domenica sera ci saranno le premiazioni sempre nel giardino del club house nel massimo rispetto delle norme anti covid vigenti. La coppa primavera è organizzata con la collaborazione dello yacht club Venezia, lo yacht club Padova e con il supporto della Darsena Le Saline base logistica della manifestazione stessa. Sarà quindi anche una bella occasione per rivedere regatare a Chioggia le imbarcazioni di mini altura provenienti dall'alto adriatico con la flotta Meteor che si sfideranno all'ultimo bordo in queste due giornate di regate. Lo leggo su Chioggia News 24. Intanto a Venezia salta anche la regata della Senza. Ieri è giunta l'ufficializzazione dell'annullamento della competizione che avrebbe avuto luogo il 16 maggio per giovanissimi puparini a due remi, donne mascherete a due remi e campioni su gondole a quattro remi. Una misura non tanto per la regata in sé stessa, ha spiegato Giovanni Giusto, delegato alle tradizioni, ma nei confronti della festa popolare e quindi per eventuali assembramenti che si potrebbero verificare a terra, dove ci sarebbe stato l'arrivo a San Nicolò a Lido. Lo sposalizio del mare è comunque confermato ed avverrà a bordo della Serenissima. Lo leggo su Azzurra Networks News. La US3 Serenissima, per mettere in sicurezza le persone appartenenti alle fasce di età dai 60 ai 70 anni, sta facendo appello perché gli interessati, al momento titubanti, prenotino il vaccino. Intanto si sta considerando l'idea di vaccinare i lavoratori presso le aziende, soprattutto quelle di grandi dimensioni. Al momento si sono dimostrate interessate all'iniziativa Veritas, AVM, Fincantiere e San Benedetto a Scorsè. Si sta pensando al vaccino per tutti i lavoratori del comparto del turismo, mossa che potrebbe essere utile per rilanciare turisticamente Venezia. Nel territorio della US3 Serenissima sono stimati 50.000 operatori, a cui si potrà cominciare a pensare, terminato di vaccinare, anziani, disabili, fragili e caregiver. Per quanto riguarda il praticare la vaccinazione in farmacia, secondo la Federazione dei Medici di Famiglia, è una procedura che vanta dubbi di illegittimità, in quanto vaccinare richiede procedure complesse di esclusiva pertinenza medica e quindi non dovrebbero essere svolti da chi ha diverse competenze. Secondo FMMG è già sorprendente l'impiego da parte della regione nell'investire ancora risorse per aumentare la platea dei soggetti vaccinatori, mentre ciò, più che dare opportunità, può causare disorientamento. L'accordo con Federpharma crea una distorsione del sistema sanitario. Anche secondo alcuni esponenti politici, PD, bisogna fare attenzione a non compiere atti in odore di illegittimità che potrebbero risultare dannosi, invitando Zai a fare una riflessione sulle considerazioni enunciate da FMMG Veneto. Lo leggo su Venezia Today. In Veneto comunque sta risalendo l'RT e la regione ancora a rischio di cambiare colore dal giallo all'arancio. Si tratta di un dato preoccupante per ovviare al quale si richiede alla popolazione un gesto di responsabilità, con il mantenimento delle distanze, l'uso della mascherina e la disinfezione delle mani. Lo leggo sulla voce di Venezia. Anche a Chioggia, presso Parco Commerciale Clodì, puoi acquistare il tuo mezzo di trasporto del futuro. I migliori prodotti del mercato e a costi contenuti. Per informazione visita il sito www.motozone.it o chiedi informazioni via e-mail info-motozone.it Il volume dei traffici portuali in entrata e in uscita dal porto di Chioggia, considerando il periodo del primo trimestre 2020 e con l'analogo 2021, registrano un aumento del 25,4% a causa però dell'annullamento dei traffici stessi nel 2020. Negli ultimi 12 mesi invece c'è un calo di quasi il 20%. Secondo la Zincone, commissario straordinario dell'autorità sistema portuale, la riduzione dei traffici è una conseguenza diretta della crisi economica dovuta al Covid, ma ci sono interessanti segnali di ripresa. Bisogna soltanto attendere che riparandano tutte le attività. A Venezia in particolar modo deve riprendere il settore container, che però è legato al completamento degli interventi di dragaggio. Leggendo sul gazzettino in edicola ieri, gli americani hanno un forte desiderio di tornare in Italia a passare le loro vacanze, ma di fatto stanno abbandonando il bel paese per rivolgersi alle vicine coste greche. Sembra che l'Italia non stia fornendo la chiarezza e la sicurezza necessaria perché i turisti possano arrivare con la tranquillità necessaria. Grecia, come Spagna e Islanda, hanno aperto le frontiere ai vaccinati, come non sta facendo l'Italia. La confusione che provoca già negli italiani il cambio di colore tra regione e regione si amplifica perché deve affrontare un lungo viaggio e devo farlo con la certezza che tutto fili senza problemi, inclusa la possibilità di spostarsi dove meglio si crede. Inoltre i turisti vedono il rilento con cui prosegue la campagna vaccinale e neppure questo contribuisce a dare certezze. I turisti americani spesso non sono giovanissimi, temono il virus più di altri e rimproverano gli italiani la mancanza di disciplina nel mantenere il rispetto per le norme anti-covid, punendoci per questo scegliendo mete diverse. Temono anche di ammalarsi in Italia e di essere costretti a rimanere qui bloccati. Invece in Messico all'arrivo fanno il test e garantiscono in caso di contagio la copertura medica e l'assistenza a proprio carico, per questo hanno alberghi e strutture colmi. Per accaparrarsi gli ultimi americani ancora dubbiosi sulla meta Italia serve che tutto il comparto turismo crei un protocollo di accoglienza che possa rassicurare il turista a 360 gradi, pubblicizzandolo al mondo intero con un'intensa campagna pubblicitaria. Intanto si suppone che l'immunità di greggio in Veneto possa arrivare per fine agosto. Mercoledì prossimo, 12 maggio, lo shop rendetto da ACTV-AVM sarà dalle 10 alle 3. 13 e comprenderà nuovamente la disdetta del contratto di secondo livello e affiancherà lo shopero nazionale indetto da USB per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto. Durante le agitazioni precedenti alcuni lavoratori hanno aderito allo shopero bianco causando ritardi alle linee e non è detto che ciò non possa ripetersi durante la prossima agitazione causando disagi importanti all'utenza, anche se i sindacati neggono questa intenzione. Dal canto suo, AVM annuncia che durante la shopero non saranno previsti servizi minimi, in quanto lo shopero stesso ha una durata inferiore alle 4 ore, quindi non sarà tutelato neppure il trasporto all'orario d'uscita delle scuole. Per quanto riguarda l'amministrazione comunale di Venezia, la maggioranza ha deciso che fino a che non saranno concluse le vertenze, il tema trasporti e AVM non verrà discusso in nessuna sada istituzionale del comune, neppure il servizio sia pubblico e si stia affrontando un'importante stagione turistica nell'ottica di una ripresa. Problematici comunque i collegamenti con Murano a causa dei tagli alle linee aducibili a calo del turismo, ma non tenenti conto della necessità di mobilità dei residenti. Lo leggo su Venezia Today. I pescatori dei Mazzara del Vallo continuano a non avere vita facile. Un peschereccio che stava effettuando una battuta di pesca a largo delle coste del Bengasi è stato mitragliato da una motovedetta libica e il comandante dello stesso è stato ferito ad un braccio. Secondo la Libia i colpi sono stati sparati in aria, colpi di avvertimento perché il peschereccio stava sconfinando nelle acque territoriali libiche. In assistenza ai tre pescherecci che stavano pescando in zone ad alto rischio è sopraggiunta a tutta velocità la fregata libeccio della marina militare italiana, in quanto la motovedetta libica stava avvicinandosi ai pescherecci con una rapida manovra. Il Ministro della Difesa viene tenuto costantemente aggiornato. Lo leggo sulla sicilia.it. Ricordandovi che la farmacia di turno per oggi, venerdì 7 maggio, è la farmacia all'Adriatico in Viale Mediterraneo di Sottomarina. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!